Il castello autentice di Frassoli San Mito de Normanni, unico esempio in Puglia di residenza nobiliare ancora abitata dalla famiglia d'origine, ha aperto le porte a un evento unico. La fusione di arte, cultura e moda si è manifestata attraverso la visione del noto stilista di alta moda Roberto Guarducci, noto per la sua lunga collaborazione con la Maison Fendi, che ha presentato la sua esclusiva Capsule Collection dal tema Aristocratic Muse, un incontro tra il contemporaneo e l'eleganza senza tempo che ha trasformato gli splendidi saloni del castello in uno scenario magico. Per me è una grande opportunità e una gioia poter unire l'arte, la cultura, la storia, la bellezza e la moda in un ambiente così esclusivo. Una rappresentazione di sofisticatezza e classe in chiave moderna, un omaggio alla bellezza senza tempo. La residenza nobiliare Dentice di Frasso, la cui origine risale tra il XII e il XVI secolo, tuttora abitata dai principi Giuliano e Fabrizia Dentice di Frasso, è diventata il teatro di questa celebrazione di stile raffinatezza. Gli abiti, pensati con grande cura, sono stati un viaggio attraverso epoche passate a richiamare il glamour degli anni 30 e 40, creazioni sobrie ma realizzate con tessuti preziosi arricchiti da dettagli a completare l'opera, un sogno di eleganza intramontabile, impeccabili padroni di casa che hanno generosamente concesso la propria dimora per una straordinaria manifestazione di arte e moda.